Porta la tua azienda in questo video. JAPTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a sport-japtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. C'è anche Piazza della Vittoria nell'elenco delle 92 piazze in cui sabato 23 gennaio sarà possibile manifestare e chiedere la parità di diritti. Pavia si unirà quindi alla mobilitazione nazionale indetta dalle associazioni LGBT in vista della discussione al Senato del disegno di legge sulle unioni civili. L'invito è steso sia alle forze della società civile che al mondo associativo. Chiunque vorrà potrà scendere in piazza dalle 15.30 per l'uguaglianza, per il diritto di vivere in uno Stato laico, per chiedere piena parità di diritti e per combattere affinché l'attuale testo sulle unioni civili venga approvato così come proposto. Una legge che secondo le associazioni parte già come mediazione al ribasso. L'Italia è uno dei pochi paesi europei che non prevede nessun riconoscimento giuridico per le coppie dello stesso sesso. Le persone gay, lesbiche, bisessuali e transessuali non godono delle stesse opportunità degli altri cittadini. Una discriminazione insopportabile, priva di giustificazioni, scrive l'organizzazione in un appello lanciato al governo e al Parlamento, a cui viene chiesto di guardare in faccia la realtà, di legiferare al più presto per fare in modo che non ci siano più discriminazioni e di approvare leggi che riconoscono la piena dignità e pieni diritti, tra i quali la reciproca assistenza in caso di malattia, la possibilità di decidere per il partner in caso di ricovero o di intervento sanitario urgente, il diritto di ereditare i beni del partner, la possibilità di subentrare nei contratti, la reversibilità della pensione, la condivisione degli obblighi e dei diritti del nucleo familiare, il pieno riconoscimento dei diritti per i bambini figli di due mamme o di due papà. Alla manifestazione hanno già aderito, tra gli altri, i giovani democratici di Pavia, la sede pavese del Movimento 5 Stelle, Amnesty International e la Federazione Provinciale di SEL. Porta la tua azienda in questo video. JAPTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot.japtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.